Ciao pesci, grazie per aver aperto questo video. Allora, andiamo subito a vedere quali sono le novità che ti aspettano nel mese di agosto, ok? Guarda, a te ho affidato questa pietra che è meravigliosa, si chiama quarzoialino ed ha anche delle proprietà interessanti per quanto riguarda il sistema immunitario Ti ricordo anche che, ah no scusami, mi dispiace se ho un po' di tosse la voce così, porta pazienza Allora pesci, iniziamo, partiamo e vediamo che cosa ti attende per il mese di agosto Allora, per il segno zodiacale dei pesci, mese di agosto 2023 Ok, non vi preoccupate, adesso vi spiego tutto con calma Poi cos'altro Carta molto bella Poi cos'altro per i pesci Interessante, questa carta è uscita molto spesso anche in altri segni Quindi se sai il tuo ascendente, l'uno è venere, vai a vedere anche gli altri video Perché potresti chiarire meglio il significato di questa stesa Poi Poi cos'altro per i pesci Ok, questa carta è uscita poco Cioè, non è uscita spesso quando ho fatto l'oroscopo Comunque adesso andremo a vedere Ne prendo altre due e poi mi fermo Bellissima carta E' anche bella proprio Mi piace tantissimo anche come l'hanno realizzata Cioè, secondo me E' meravigliosa Ok, prendo l'ultima Bella Non era mai uscita oggi E nel taglio Abbiamo scelte relative conseguenze Tra l'altro poi c'era anche un cavaliere Quindi se state aspettando qualcuno Donzelle Qui Cioè Anche guarda Una bella mente Sì, sì Ci sono tante energie Che ti daranno forza Secondo me Durante questo mese Allora Potrebbe essere che All'inizio del mese O nelle prime giornate C'è qualcosa Che ti darà un po' fastidio Che ti punzecchierà Diciamo In un certo senso Insomma Tutto si risolverà rapidamente Per il meglio Poi sappiamo che comunque Stiamo andando a cercare Di interpretare un mese Non è che un mese Fila tutto liscio E tutto roseo Può essere anche solo Che ti deve arrivare La cucina La lavastoviglie nuova E invece che arrivarti Nel giorno prestabilito Ti arriva due giorni dopo Cioè Si può trattare anche Di cavolate Però C'è qualche Fastidio Iniziale Poi ti vedo molto A contatto con gli altri Quindi Non lo so se tu fai Il guest Volontariato Se partecipi a qualche Associazione Se fai parte Se c'è qualche Sagra Paesana Qualche festival Io ti vedo molto In movimento Ed è una cosa positiva Soprattutto è bello Che tu tenga In allenamento Le tue emozioni Ti vedo anche Staccare Ormai Lo sappiamo tutti Agosto è il mese Delle ferie No? Ti vedo Anche Banalmente Prendere una giornata Andare al mare Riposarti Tu da solo Da sola E rigenerare Un po' i tuoi equilibri Magari anche Cambiare Le uscite Le persone Le compagnie Che frequentavi E fare Proprio delle attività Delle scelte E delle uscite Con maggiore qualità Per aumentare La qualità Della tua vita Personale Ed è molto bello Questo Ti vedo molto Alla pari con gli altri Quindi non vedo Diciamo Una certa Esuberanza Di questo tipo Ma ti vedo molto Partecipe Sai coinvolgere Sai coinvolgere Anche gli altri Questo è molto bello Vedo anche Delle opportunità Lavorative E non Quindi si può Trattare anche Di passioni O di hobby Che Diciamo Contorneranno Un pochino Questo mese Di agosto Nonostante È un mese Un po' più Estivo Però Ti vedo Ti vedo bene Ti vedo All'opera Felice Entusiasta E poi Qua parla di destini C'avevamo il cavaliere E scelte Conseguenze Sicuramente Ci sono delle comunicazioni Qualcosa di inaspettato Che arriva Questo È poco Ma sicuro L'estate Ci porta spesso Anche novità Freschezza Leggerezza Quindi Potrebbero esserci Delle nuove conoscenze Un ritorno Di una persona Dal passato Tu Potresti Comportarti In una maniera Che non ti aspetti Ma l'estate Porta anche a questo Cioè È normale Diciamo Non ti devi preoccupare Vediamo adesso Queste carte Che cosa ci Dicono per te Io comunque Ti ricordo Che pubblico I video Per tutti I 12 I segni Zodiacali Quindi Vai a vedere Anche il video Per il tuo ascendente Luna e Venere Mi raccomando Qui sotto Nella descrizione Trovi il link Se hai piacere Di entrare Nel mio gruppo Telegram E di seguirmi Su Instagram E ultima cosa Mi raccomando Iscriviti al canale Può sembrare Una cavolata Ma è importantissimo E lascia un commento Qui sotto Fammi sapere Se hai in programma Delle vacanze Dei viaggi Cosa farai Durante i mesi di agosto Oppure Potresti anche Dirmi qui sotto Nei commenti Pesci Se ti aspettavi Una stesa Di questo tipo Oppure Se ti aspettavi Qualcosa di più O molto meno Anche questo Sarebbe interessante Da sapere Quindi Lascia un commento Qui sotto Mi raccomando Gratuito Non costa niente Ci tengo E iscrivetevi Che è obbligatorio Chi guarda i miei video Ha l'obbligo Di iscriversi al canale Perché io Sono veramente Tanta roba Pubblico un sacco E quindi dovete Rimanere aggiornati E poi L'iscrizione Aiuta il mio canale A crescere Io ci tengo un sacco Ci metto un sacco di ore Impegno Tempo Fatica Sforzi Nei video Quindi Iscriviti Allora Vediamo con queste carte Cos'altro ci aggiungono A questa stesa Guarda Te l'avevo già detto Quindi Lo confermo Le carte Non mentono Ragazzi Poi Cos'altro Ok Anche Sarai d'aiuto Per un bambino O farai delle attività Insieme ad un bambino Trascorrerai dei momenti Insieme a una figura Più piccola Si può sempre imparare Dai bimbi E sappiatelo Cos'altro Un ex Non ti ha dimenticato Io ve l'ho detto Che c'è qualcuno Dal passato Io ve l'avevo già detto Eh Di un ritorno E guarda Anche questa Lui o lei Non ha fiducia In te Quindi Prendi tu Atto di questo Mi raccomando Comunque non posso Non farvi vedere Ma di cosa Stiamo parlando Ma di cosa Stiamo parlando Ma vi prego Ma commentate Con Lilla Se siete arrivati Fino a qui Cioè ma quanto è bella Lilla Quanto sei bella Quanto sei meravigliosa Quanto sei spettacolossetto Fai la nana Lilla Fai la nana Ciao picci Ciao picci